Biscotto per l'Africa A favore dei tanti progetti portati avanti da Tecla Ollus per i bambini dell'Africa Sì, sono molto contenta perché oggi appunto è la sesta edizione del Biscotto per l'Africa e è un evento organizzato dalla Tecla Ollus insieme all'Associazione Sommelier Italiana in Delegazione di Arezzo e ci sono tanti bambini, i bambini dei piccoli chef, i bambini speciali di Castiglion Fiorentino, il coro delle voci incantate e tutti insieme facciamo questo evento per aiutare altri bambini